Quei tacchi a spillo frenavano l'impeto di fare la corsa che poteva mettermi in salvo. Non potevo rischiare di rompermi un braccio, cadendo da quei maledetti dodici centimetri che si erano attaccati alle caviglie a causa di una stupida scommessa fatta un'ora prima di trovarmi in quella strana situazione. Avrei voluto lanciare quei sandali, quei sandali estivi muniti di un laccetto argentato che assicurava la giusta presa al colo del piede nel primo bidone verde, quello dell'indifferenziata, ancora prima di arrivare al bivio e di trovarmi davanti a quel quadro inaspettato. Davanti al circolo si stava dileguando molta gente in segno di avversione alla negata tranquillità del momento. Qualcuno, con aria circospetta, cercava l'incontro degli occhi che, protagonisti dei volti di quei giorni, sbucavano dalle mascherine. Intanto l'acqua che fuoriusciva sempre più velocemente dalla casa, che si affacciava sugli scalini della piccola piazza, sembrava non conoscere destinazioni e affondava senza riguardo ogni cosa che si trovava nella sua direzione. Volevo allontanarmi, seguendo gli attimi scanditi dalla fuga. Il mio pensiero andava oltre la mia tanto augurata incolumità e mi diressi verso quei gradini, come attirata da qualcuno che chiedeva aiuto. Solo io potevo sentire, non ero neanche così certa. Forse quel richiamo non era una voce, poteva piuttosto somigliare al lamento di un violino abbandonato. Riuscì finalmente a liberare i miei piedi da quelle fibie color argento e privilegiai la mia curiosità andando verso quel suono, così pareva, delicato e insistente. L'acqua che si stava impadronendo fino a qualche istante prima della piazzetta sembrava ora orientarsi verso le piccole aiuole fiorite che decoravano i contorni delle rimesse per biciclette. Feci i gradini che portavano all'entrata della casa, intrappolando lo sguardo verso qualcosa di mai visto prima d'ora. Ero sola, non potevo condividere con altri lo stupore che provavo. Avevo una grande voglia di bellezza. Questo luogo mi dava la sensazione di percepirla e la trovavo in ogni cosa, anche in quelle cornici così sbiadite dal tempo, risucchiate dall'odore degli anni. Dalla finestra che si trovava sulla parete opposta alla porta d'entrata, giungeva un insieme di versi di galline e di pulcini, con le chiocce costantemente preparate a ricevere sotto il folto e morbido piumaggio i loro piccoli che, saltellando con fare allegro e buffo sulle esili zampette, con quel piu piu piu, cercavano di allargare sempre di più il cerchio del loro mondo. Che bello! Avrei voluto disegnare tutto quel via vai di movimenti svelti e colorati sul primo canovaccio che potevo, per caso, trovarmi tra le mani. Riportando l'attenzione su quella stanza, capì che era piena di sguardi, sì, erano lì appiccicati alle pareti e l'impressione che ne provavo era come quella di sentirsi a casa propria e quella di come quando stai cercando disperatamente qualcosa di tuo che non riesci più a trovare. Giravo, rigiravo lo sguardo e potevo togliere a quel punto la fastidiosa mascherina. Erano giorni che faceva parte del nostro ancora attuale abbigliamento, quindi niente più trucchi e rossetti, solo mascherine bianche, nere, decorate e soffocanti. Ma torniamo alla stanza. Cercavo con improvvisa passione di orientarmi verso gli sguardi. Non erano sguardi impressi nei volti come chiunque può immaginare, erano sguardi sulle parole srotolate dalla bobina di un film. Quelle parole avevano una grande voglia di cercare in se stesse il proprio significato e il tempo di cui non erano più parte, lasciando trappelare silenziose infinite architetture. Quelle parole sussurravano, guardavano, abbellivano e profumavano l'aria, uscivano dal nastro della vecchia bobina e si muovevano, danzavano, si prendevano per mano cercando di avvicinarsi, di allontanarsi, di contraddirsi, di cercare in mille dubbi quelle risposte che lasciano altrettante incertezze. E solo così potevano percorrere ancora innumerevoli direzioni, sbattendo ogni tanto in qualche lettera che si sovrapponeva alle vircole e ai punti. E come per gioco la fantasia poteva scorrere, dipingere, scrivere, cantare, ballare, recitare, abbracciare tutti coloro che per qualche speciale interesse si fossero presi cura di lei. E così ogni volta che mi trovo tra le pareti della mia stanza scopro qualcosa che mi porta al di là dei muri, al di là dei limiti, al di là delle cose imposte, al di là di quello che sono, al di là dei miei panni, per scoprirmi parte degli sguardi della stanza sui gradini della piazzetta. Mi sveglio dal sonno, spettinata e sudata, e posso finalmente mettere le mie consumate scarpe da ginnastica, forse per andare nella stanza dei gradini.